Siamo con Rima Pipoian che questa sera alle 21 a Teatro Sociale presenta il suo spettacolo Hey Kitty. Di cosa parla questo spettacolo? Hello, yesterday will be my performance at the Teatro of Teatro Sociale and I'm really excited about it. My performance called Hey Kitty and it based on Anna Frank's diary. I did it two years ago in Berlin and yes it's like a performance solo performance and film which is going together but they are separated film is going like backwards back to the front and my performance I start from the beginning and it goes to the end and I hope the audience will appreciate my work and I'm truly excited to show it here in this beautiful festival. I really like everything here it's really quiet and beautiful small city and I hope everything will be ok tonight. Allora sì esatto questa sera recito e danzo al Teatro Sociale e sono molto molto contenta di essere qui. Il mio lavoro si chiama Hey Kitty e si basa su idei di Anna Frank e è una performance dove io sono da sola e praticamente io lavoro insieme ad un video e però le linee temporali sono invertite quindi diciamo la mia danza inizia dall'inizio e finisce alla fine e il video va al contrario e appunto io spero che il mio lavoro venga apprezzato questa questa sera e veramente sono contenta di essere qui e in questa piccola città mi sembra meravigliosa. Siamo con Filippo Ceredi che oggi presenta il suo spettacolo Between me and P. Di cosa si tratta? dunque è uno spettacolo che nasce da una ricerca che ho svolto negli ultimi cinque anni sulla sparizione di mio fratello Pietro, mio fratello maggiore che è andato via di casa senza lasciare tracce. È stata una scelta sicuramente motivata da una questione esistenziale ma anche da forti motivi politici che riguardavano la società come si stava trasformando in quel momento storico quindi parliamo del 1987, una decisione maturata nel pieno degli anni Ottanta. Siamo con Anna Paola Vellaccio che questa sera presenterà al suo spettacolo La chiave dell'ascensore. Di cosa si tratta? Dunque è un testo di Agota Christof che è una scrittrice ungherese trapiantata in Svizzera subito dopo l'invasione della Russia è una scrittrice che molti di voi conosceranno ha avuto una certa fama anche era in odore di Nobel negli anni 90 poi non l'ha vinto però ha una scrittura molto dura, molto secca non c'è una parola di troppo ed è un testo, la chiave dell'ascensore, scritto per il teatro che riguarda anche la violenza sul femminile come per amore ci si può far privare di tutte le proprie facoltà però può essere anche letto in modo più metaforico come una società, non solo come una singola donna che viene vessata come diciamo, ecco così, dal marito A che ora e dove possiamo vedere questo spettacolo? Lo si può vedere questa sera alle 22 al Teatro Studio Teatro del Lemming Grazie mille Prego Allora 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 Grazie.